Si è svolto a Ponte Latone presso la suggestiva location di Villa Samuel un importante incontro sull'enno turismo con la relativa presentazione della proposta di legge che sarà determinante per la rinascita del medio volturno, una forma di turismo tematico che pone al centro dell'attenzione il vino e la sua produzione. Anche nel Casertano dunque si cerca di costruire un connubio tra l'eccellenza vinicola prodotta e il turismo legato alla qualità dell'ambiente e del paesaggio. All'incontro voluto dal consigliere di opposizione Andrea Stanca del comune di Ponte Latone hanno partecipato importanti relatori del mondo istituzionale e politico, fra gli altri anche il consigliere regionale Alfonso Piscitelli di Fratelli d'Italia che ci ha spiegato gli effetti della legge. Allora noi partiamo oggi dal lavoro che stanno facendo i parlamentari di Fratelli d'Italia e stanno presentando una legge sull'enno turismo che va nelle direzioni della tutela anche delle piccole realtà ma che hanno prodotti di eccellenza ed è un'occasione più unica che rare visto che Fratelli d'Italia in qualche modo ci tiene alle particolarità dei territori. È un momento di tutela e di rilancio di una possibilità che è legata sia al vino, ai nostri prodotti tipici locali, sia allo sviluppo del turismo collegato. Questa legge nazionale si collega, o meglio la nostra legge regionale che deve essere ancora approvata, si collega in qualche modo ai principi fondamentali della legge nazionale che va nella stessa direzione per cui non è ancora pronta in consiglio regionale. Mi preoccuperò di portare emendamenti secondo quanto prevista anche della legge nazionale per migliorarla e fare in modo che anche la regione campane che sta in avanti perché solo la regione toscana ha approvato una legge che va in questa direzione. Nell'intento si vuole tutelare quelli che sono i percorsi enocoastronomici anche perché è da un po' di tempo, da un po' di anni che i turisti accorrono sui territori al di là del buon vino che l'Italia è la migliore protagonista a livello mondiale ma anche perché corrono dove ci stanno le particolarità turistiche, dove ci stanno le manifestazioni e i due cestori del territorio e quindi riuscire a collegare entrambe le cose, credo che si faccia un buon lavoro nello sviluppo proprio dei territori. Un'ultima domanda, quali potrebbero essere i tempi di approvazione? In regione manca poco, c'è da presentare soltanto qualche emendamento e la fattibilità dal punto di vista della Commissione Bilancio ma credo che si arriverei in fondo anche da questo punto di vista. Il senatore Luca Di Carlo, presidente della Commissione Turismo e Agricoltura in Senato ci ha invece telegraficamente spiegato l'importanza della legge. Senatore, allora l'importanza di questa legge? L'importanza di questa legge è quella di mettere assieme due eccellenze italiane. Da una parte l'agricoltura, i prodotti di qualità, in questo caso il vino e dall'altra parte il turismo e quindi le bellezze di questa nazione. Il combinato tra le due cose non fa uno più uno, due, ma fa tre. Da Ponte Latone è tutto, Lorenzo Applauso per casertasera.it